Ciao a tutti e ben ritrovati! Oggi passeremo 8 minuti in compagnia di un'icona di stile. L'icona di stile che andremo a trattare è la Marchesa Luisa Casati Stampa. Per ulteriori informazioni su di lei vi rimando al blog The Quig e agli altri video nel canale YouTube. Ma passiamo a lei! Luisa è figlia dei Conti Amman e nasce nel 1881 a Milano. Molto presto si ritrova orfana di entrambi i genitori e lei e la sorella divengono le ereditiere più ricche d'Italia. A 19 anni sposa il Marchese Camillo Casati Stampa di Soncino e l'anno successivo ha l'unica figlia Cristina, nome dato in onore della sua eroina Cristina di Belgioioso, la principessa di Belgioioso. La Marchesa Casati Stampa dopo qualche anno di matrimonio intorno al 1905 conosce il Vate, Gabriele D'Annunzio e tra i due nasce un grande amore e un sodalizio artistico durato praticamente tutta la vita. Gabriele D'Annunzio vede nella Marchesa quella figura decadente che lui ha sempre scritto e che ha sempre descritto nelle sue poesie e nei suoi romanzi. La Marchesa Casati Stampa inizia così un cambiamento dal punto di vista fisico e di stile. Iniziando dal trucco, un trucco molto teatrale, un po' spettrale, infatti mette molto nero sugli occhi quindi fa uno smokey eye molto molto presente, addirittura per enfatizzarlo spesso mette sotto agli occhi delle strisce di velluto in modo che risalte ancora di più dell'occhio. All'interno dell'occhio mette delle gocce di bella donna per allargare la pupilla e poi nel viso si crea come una cipria diciamo un viso estremamente bianco e pallido quindi un pallore molto forte che va a contrasto con le labbra che cerca sempre di rimarcare con un bel rossetto rosso. Passando all'abbigliamento la Marchesa predilige il colore nero un po' come nei nostri tempi però ricordiamoci che stiamo parlando della Belle Epoque dove invece i vestiti andavano un po' più colorati. Lei predilige il nero, predilige le pellicce e quindi diciamo che è stata definita almeno dal mondo della moda una vera dark lady, la prima dark lady della storia. La Marchesa Casati viene ricordata anche per le sue bellissime dimore. La prima è una villetta in via Piemonte a Roma dove lei ha soggiornato nei primi anni del suo matrimonio che ha completamente ristrutturato rendendola nei toni del bianco, del nero con delle pelli attaccate diciamo con una parte in oro dove quando lei era all'interno faceva mettere fuori due gazzelle colorate in oro. Queste gazzelle all'asta adesso, adesso no perché è morta, però erano andate a Coco Chanel che comunque anche lei aveva il mito della Marchesa Luisa Casati Stampa. L'altra casa per cui viene ricordata la Marchesa Casati è Ca Venier de Leoni, l'attuale Museo Guggenheim, infatti l'ultima acquirente del palazzo è stata proprio Peggy Guggenheim, ma prima di lei è stata la Marchesa Casati Stampa che ha soggiornato per molti anni a Venezia dove ha portato con sé tutti i suoi animali esotici e tutto il suo esotismo. Il palais de rose, spero di averlo detto bene, acquistato dall'amico il poeta decadente Montesquieu, è un palazzo alle porte di Parigi dove lei ha soggiornato per l'ultima parte non della sua vita, ma della sua vita da ricca e questo palazzo lei l'aveva completamente ristrutturato, aveva tolto la biblioteca e dove prima c'era la biblioteca lei aveva fatto la sua galleria d'arte con tutte le opere nella quale era stata ritratta. Proprio come Peggy Guggenheim la Marchesa Casati è stata una grande mecenate, ma era una mecenate perché lei ambiva ad essere un'opera d'arte vivente e così è stato. La Marchesa Casati Stampa è stata la donna più dipinta, scolpita, disegnata, fotografata, hanno fatto scritti su di lei, poesie... Tra i tanti artisti ricordiamo Boldini, De Pero, Man Ray, De Meillet, Trubetzkoi, Van Dongen, Alberto Martini, Paget Friedrichs, Renato Bertelli, Romain Brooks, Giacomo Balla, Augustus John, Cecil Beaton, De Blas, Roberto Montenegro, Alastair, Ignazio Zuloaga, per la moda e costumi Erté, Bext, Mariano Fortuni e Poiré. Oltre che per l'arte, la Marchesa risulta famosa anche per le feste che riusciva a dare. Erano delle feste memorabili scritte in tutti i giornali dell'epoca e lei adorava travestirsi. Si è lontana, quindi diciamo che spaziava in qualsiasi travestimento, compreso il travestimento non a una festa data da lei, ma dai Marchesi de Beaumont, dove lei arrivò vestita da San Sebastiano, quindi aveva portato con sé un elettricista che doveva fargli funzionare un impianto con le lampadine, poi all'ultimo ci fu una scarica elettrica che comunque scioccò la Marchesa e non si poté presentare alla festa, però rimase comunque un aneddoto molto famoso. È l'unica donna ad aver affittato Piazza San Marco a Venezia per fare una festa a tema. Dopo feste e divertimenti e dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Marchesa Cassati Stampa si trasferisce a Londra, dove vive la sua unica nipote Murea. La Marchesa nel frattempo ha dilapidato tutto il suo patrimonio e vive grazie alla nipote e grazie agli amici. Nel 1957 muore e viene sepolta al cimitero di Brompton a Londra, dove nella sua lapide la nipote fa scolpire una frase di William Shakespeare. L'età non può appassirla, né l'abitudine rendere insipida la sua infinita varietà. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mi farebbe molto piacere se mi metteste un like e mi seguiste. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi, mandarmi un messaggio, sarò lieta di rispondere a tutte le vostre domande a proposito della Marchesa e dei Royals. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!